Comunicare e raccontare la natura non è una cosa semplice. Bisogna conoscere le tecniche, i mezzi, il video, la carta stampata, i blog, i social network e si devono conoscere bene anche le dinamiche dei sistemi naturali, le modificazioni dei paesaggi, le interazioni tra uomo e fauna. Bisogna basarsi sull'evidenza scientifica, sui fatti. Occorre avere una formazione ibrida, multidisciplinare e che permetta di divulgare in modo coerente e efficace i temi della natura e del suo rapporto con l'uomo. E si devono considerare anche i diversi linguaggi e le modalità di comunicazione, i format e i programmi. Master fa un HD in comunicazione della natura e del paesaggio. Con le soluzioni giuste, tutto è più chiaro. Cogli l'occasione, la natura ha bisogno di essere raccontata. Vi aspettiamo!